Ciao, allora oggi voglio lavorare sui abdominali, sono fissata sui abdominali, gli abdominali sono importantissimi a qualsiasi età, io sono quasi 50 anni, insomma a agosto avrò 49 anni e lavorando tanti sui abdomi mi permette di avere l'abdome anche in menopausa, perché sono in menopausa da quando c'è 43 anni, 42-43 anni, sempre piatta, ok così, proviamo di andare a fare l'allenamento con la Jill, pieghiamoci, ok adesso io farò 3 minuti di plank, ok, e questi 3 minuti se tu senti l'esigenza proprio di fermarti, ti fermi, ok, e poi il minuto che ti passa l'acido lato che ti rimette in mezzo, ok, ok, in questo momento provate di tirare i punti di piedi verso i gomiti, gomiti verso i punti di piedi, punti di gomiti verso i punti di piedi, questo ti aiuta a concentrare ancora di più proprio sui core muscles e quando lo fai, li stai avvicinando e stai tirando su l'ombelico, ok, tutto teso, tutto teso, ok, se devi recuperare, recuperi adesso, poi ti dico, sono 40 secondi che sono passati, ok, così, ci puoi recuperare per 20 secondi, poi ti ributi nella meschia per il secondo minuto insieme, mancano 12 secondi, poi cambieremo di nuovo, sollevate l'ombelico, ok, mi raccomando, e la pancia sono eccellente perché ti permettono di lavorare senza stressare la schiena, ok, ok, adesso il primo minuto è andata, abbassiamo il fianco e teniamo questo minuto, ok, facciamo 30 secondi e 30 secondi, proprio sollevando l'anca, risucchiando dentro l'ombelico, ok, ancora 15 secondi su questo lato, tiri su, tiri su, tiri su il fianco, a piacimento, ok, può essere destra, può essere sinistra, non importa, ok, ancora 5 secondi, poi cambiamo, e 30 secondi con l'altro obliquo, ok, cambiate giù, ok, giù, 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 però l'unica cosa che deve rimanere è una sensazione di sollevamento da sotto il fianco, come se c'è un ponte che ti soregge, copie il punto vita, tiri su, ok, il secondo minuto è quasi finito, poi ci manca soltanto il terzo minuto, ancora 10 secondi, e con questo esercizio devo dire, cresciti con me, magari tra i 3 minuti non ci riesci a farlo all'inizio, ma ci arriverai, vedrai che ci arriverai l'abdome con te, ok, di nuovo, centrale, e sollevamo, ok, questo è il terzo minuto, ok, due minuti sono già passati, yay, ci piace? Ok, tiri su, l'altra, cioè proprio centralmente, ok, ancora, ok, adesso, 20 secondi sono passati i centrali, adesso passiamo per 20 secondi, con un fianco, ok, di nuovo, piccole pulsazioni verso alto, piccole pulsazioni verso alto, continuiamo per 10 secondi, poi finiamo in bellezza con l'altro lato, è quasi finito ragazzi, ancora, vado, e cambio dell'altra parte, e continuo su, su, ok, ci mancano 15 secondi, e i 3 minuti sono andati, ok, vai, 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 e ci mancano 5 secondi, vai, 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 and stop, ok, cioè i 3 minuti di plancia sono andati, adesso mettetevi seduto su un fianco, e andiamo a stendere le gambe, ok, scendo giù, e mi tiro su, scendo giù, e tiro su, facciamo un'altra due volte, e tiro su, e tiro su, e mi ha ancora uno per bellezza, ok, qui rimaniamo, e facciamo il Russian Twist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e cambio l'altro, ok, mi piace tantissimo questi, poi gli addominali comunque secondo me vanno lavorati tutti i giorni, o più che puoi, perché sono un gran gruppo che ci sostiene sempre, ha bisogno di tantissimo lavoro per avere forza e definizione, così, 1, tiriamo su, 2, su, 3, su, 4, su, 5, e andiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, spiegati un attimo, ricupero un attimo, ok, e adesso andiamo a fare proprio uno classicissimo, bellissimo, ok, incrocio le gambe, faccio su, ok, crunch, togliendo le spalle, sollevando le spalle da terra, ancora, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, mani vanno sotto le nattiche, sollevamoci un po', andiamo su flutter kicks, sollevamoci un attimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, ricopro 4, 3, 2, estendo, flutter kicks, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e batto i piedi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, e ricopriamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, eccellente, bel allenamento per i nostri abdominali, fatti, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale YouTube, venite sul mio account Instagram per seguirmi tutti i giorni con altri consigli, e se vi piace il mio canale, non solo iscriviti, ma fatti una playlist, e di conseguenza puoi trovare sempre i miei video, quelli che tu preferisci, proprio a un battito di mano, e vi aspetto qua sempre sul mio canale, ciao!